La manovra, le possibili nuove restrizioni anti-Covid sono al centro del dibattito tra i partiti. Daniele Rotondo e poi Marco Sabene. Sì, dall'Aula della Camera la fiducia sul decreto Green Pass e sicurezza sui luoghi di lavoro. 453 sì, 42 i voti contrari. La settimana scorsa il voto favorevole del Senato. E a Palazzo Madama stasera nuova fiducia sul decreto proroghe. Sul fronte Covid il Movimento 5 Stelle esorta i partiti della maggioranza a non abbassare la guardia. Giuseppe Conte che polemizza sulle nomine Rai si dichiara contrario ad ulteriori strette perché, osserva, le misure anticontagio vanno dosate con equilibrio e patuanelli sottolinea. Il governo deve seguire con un principio di massima precauzione l'andamento epidemiologico e fare norme che siano proporzionate, proporzionate ovviamente nell'interesse principio che è quello del garantire la salute. Italia Viva rilancia l'ipotesi di un lockdown solo per i non vaccinati. Altro tema la manovra di bilancio in discussione al Senato. A partire da venerdì il tavolo del Ministro dell'Economia Franco con i partiti della maggioranza, fra i quali Liberi Uguali, che con Fassina torna sugli 8 miliardi previsti nella manovra per il taglio delle tasse. Vanno concentrati sui redditi da lavoro e da pensione, in particolare per le famiglie a reddito basso e medio. Soltanto così possiamo contrastare l'effetto degli aumenti dei prezzi dell'energia. Dall'opposizione, fratto gli anni, sinistra italiana critica la legge di bilancio che, dice, non dà alcuna risposta ai problemi veri della gente. Testa alla manovra e alle misure anti-Covid. Un nuovo lockdown non è pensabile per Salvini e adesso bisogna pensare a chi è stato colpito più degli altri dalla pandemia. Tra le priorità della Lega c'è la rottamazione delle cartelle esattoriali del 2018 e del 2019. Siamo a buon punto, conferma Salvini, ma chiediamo un aiuto ulteriore per chi causa Covid. Non è riuscito o non riuscirà a pagare le rate delle vecchie rottamazioni. L'ipotesi di un tavolo di maggioranza per un percorso più agevole della legge di bilancio in Parlamento piace a Salvini, che si dice disponibile a qualsiasi cosa possa servire al paese. La Lega sta lavorando per portare la flat tax da 65 a 100 mila euro di fatturato per artigiani, commercianti, lavoratori autonomi, partite IVA. Vogliamo tutelare gli italiani che hanno patito le maggiori conseguenze a livello economico per colpa della pandemia. Sia al tavolo dei leader di maggioranza anche da Forza Italia, ma solo per parlare di manovra nell'interesse degli italiani e, ripete, italiani, adesso pensiamo a chiuderla, il Quirinale può attendere. Bisogna cambiare assolutamente l'IRAP che va abolita, un'imposta rapina che danneggia la crescita della nostra economia. Poi naturalmente siamo favorevoli all'allargamento della flat tax e per quanto riguarda il super bonus chiediamo e ci impegneremo affinché sia utilizzato anche per l'impiantistica sportiva. Taglio delle tasse sul lavoro e il rafforzamento dei bonus per l'economia, chiede De Poli, Udc, Lupi, Noi con l'Italia, punta alla riduzione del cuneo fiscale.